Buonasera, ben arrivati a questo webinar di DAS Regista sulla ISO 20000. Sono Riccardo Contessa e mi occupo di audit per DASA. Dovremmo parlare di un argomento un po' complesso. Sarò in alcune parti un po' veloce, mi scuserete, ma gli argomenti da trattare sono veramente tanti. Quindi qualche regola, diciamo così, iniziale di stampo logistico. Non si possono fare interventi diretti, non perché non mi piacciono, anzi mi piacciono molto, ma purtroppo il tempo tiranno, quindi non si possono fare. Ma potete fare tutte le domande in chat che vorrete e poi vi risponderemo. Queste sono le slide, chi volesse le slide le chiederà e noi le forniremo. E termineremo verso le 18.30, più o meno. Allora, gli argomenti che affronteremo sono sostanzialmente tre. Introdurremo, diciamo, lo scenario attuale, diciamo, sia dal punto di vista IT in generale, sia dal punto di vista dei servizi gestiti. Quindi, la seconda parte, diciamo così, che è la parte core di questo nostro webinar, e cioè la disamina delle clausole dello standard, soprattutto il capitolo 8, le operation, per chiudere con uno sguardo ai processi, soprattutto dal punto di vista dell'applicazione software che supportano i servizi gestiti, e anche qualche consiglio che mi sono sentito di fare. Devo fare una premessa, farò un uso abbondante di termini in inglese, non perché ho voglia di usare termini a sproposito, è che togliere l'inglese dall'IT è piuttosto difficile. Tanto è vero che anche l'unico mentore nazionale non ha tradotto in italiano la ISO 20.000, come succede per tante norme del settore software, del settore IT. E quindi, del resto, sappiamo tutti che nessuno di noi dice calcolatore elettronico, dispositivo di puntamento, nuvola, tutti diciamo più o meno computer, mouse e cloud. E questo è importante dirlo, l'IT, il service management, un po' come tanti settori, ha un gergo, e quindi lo si deve conoscere, anche se ovviamente non è detto che bisogna essere degli esperti. Quali sono le tendenze in atto per quanto riguarda l'IT service management? Sicuramente la hyper automation, quindi lì vedete tre sigle, la prima sta per l'intelligenza artificiale, la seconda la robotic process automation, la terza il machine learning. Sappiamo che, e questo lo vediamo anche come utenti a livello domestico, siamo circondati dai servizi, cioè siamo tutti connessi. Questo, come ho riportato sopra, ha avuto un incremento notevolissimo da marzo 2020. Pensate che nel corso del 2020 l'innovazione, come si dice, per quanto riguarda i servizi gestiti in ambito IT, ha avuto delle trasformazioni, delle modifiche che non sono avvenute nei 15 anni precedenti. Agile ed Evoops, ahimè non ho tempo per fondire, ci vorrebbe sostanzialmente tutto un pomeriggio, metodiche molto famose ormai da 15 anni nell'ambito del sviluppo software. Agile, soprattutto di derivazione della linea della Toyota, in ambito automobilistico, anche il service management ha iniziato a mutuare queste metodologie nate in ambito software. L'impresa distribuita, cosa significa? Significa che sostanzialmente il paradigma sempre più diffuso e non è più quello di una volta quella mitica sala CED con i suoi nerd in mezzo all'azienda. Adesso i grandi gruppi aprono società dedicate solamente all'IT oppure le aziende medie aprono una business unit e tutto intorno, gli utenti, i clienti, i fornitori, chi a casa, chi in giro, ovvero con modalità agile, eccetera, eccetera, si connettono e appunto come se ci fosse una impresa distribuita sul territorio. Anche qua container, microservizi, sono due logiche, due metodologie di sviluppo software di cui almeno non posso parlare perché appunto ci vorrebbe molto tempo. Hanno avuto una crescita notevole soprattutto per la diffusione dei dispositivi mobili, delle app. Anche nei servizi si comincia a vedere un po' la logica della cantonizzazione dei microservizi. La terza e ultima è praticamente scontata. I grandi IRP e CRM a livello mondiale, soprattutto uno famosissimo, quello più diffuso a livello internazionale, hanno tutta una serie di connettori col mondo dei tool del service management. Cyber security, sicurezza informatica, è inutile neanche parlarne perché siamo circondati da breach e da attacchi di ransomware. Naturalmente i servizi gestiti hanno, e anche la norma di 20.000 ha una metodica dedicata per la cyber sicurezza. L'enterprise service management, che cos'è? In buona sostanza, ora non è più solo l'assistenza, il reparto service desk, che mette in pratica talune metodologie di gestione del servizio, ma siccome alla fine trattasi sempre di un modo di lavoro, anche le altre funzioni, l'HR, il marketing, le vendite, eccetera, eccetera, cominciano a usare le stesse logiche. Nel febbraio 2023, parlare di MSP, Manager Service Provider, quindi questi grandi fornitori che sostanzialmente prendono in carico in outsourcing tutti i servizi per conto dei grandi clienti, anche a livello contrattuale, cloud, Internet of Things, cioè il frigorifero che parla con il nostro smartphone, eccetera, eccetera, non parliamo di big data, la logica di workflow dei sistemi software è una roba piuttosto vecchia, quindi non è più innovazione. Cosa ci aspetta il mondo dell'IT, ma soprattutto del service management da domani? Intanto, questa mitica parola scalabilità, che si usa un po' come il formaggio grattugiato, vuole dire avere processi talmente robusti, snelli, ripetitivi, ingegnerizzati, che il workload, cioè il carico di lavoro, può essere aumentato, diminuito, non in settimane, in mesi, tempi, unità di misura neanche pensabili, ma minuti e ore al più giorni. Questo vuol dire scalabilità. I processi devono essere sempre più efficienti, quindi non solo efficaci raggiungere la customer satisfaction, ma costare poco oppure a parità di costo dare più valore e in buona sostanza i servizi gestiti devono spostarsi, si stanno spostando da le logiche focalizzate sugli aspetti infrastrutturali, tradotto in termini molto pratici, l'hardware, il software, eccetera, eccetera, al valore. al valore. Vedremo che questa parola valore messa in grassetto tornerà tra poco. Cosa in buona sostanza è successo negli ultimi anni, quando dico ultimi anni vuol dire da almeno una quindicina, ventina d'anni, è successo questo. Voi sapete che tutte le attuali metodiche organizzative, di gestione dei processi, di definizione dell'attività, le varie metodologie più o meno famose sono nate nel mondo della manifattura, chiaramente, nella fabbrica negli anni 50, 60, 70, 80. Perché sono nate lì ovviamente perché si doveva passare da modelli artigianali o comunque su piccola scala a modelli di altissima serie con distribuzioni molto complesse in tutto il mondo. Quindi in buona sostanza tutta la massa critica che si è formata in questi decenni, le sue logiche, appunto basta pensare alla gile che deriva dalla linne, sono state poi mutuate ovviamente con le dovute cambiamenti perché non si parla di materiali ma si parla di prodotti intangibili nel mondo del service management. Qui vedete tutta una serie di diciamo indicazioni di cosa io voglio dire per concetti di fabbrica soprattutto la parte di pinificazione è importante soprattutto in Italia diciamo di moda soprattutto nella PMI l'idea che prima di pensare bisogna fare. Anche nel servizi è successo è accaduto quello che è successo nella grande serie. Prima di fare bisogna progettare ingegnerizzare go live roll out ramp up sono diciamo le tre fasi prese dal modello manufatturiero della grande serie riportati nel mondo del software e nel mondo quindi dei servizi gestiti e diciamo questo è un aspetto centrale e un aspetto centrale anche dal punto di vista della norma che assegna un grande ruolo al momento di design. se ci pensate tutto questo questa disamina o questo predicosto secondo dei casi lo possiamo tradurre con un sistema di gestione in questo caso del servizio. Di service provider di fornitori di servizi gestiti ce n'è una pletora ce n'è una pletora piccoli medi grandi ma di fornitori di service provider certificati ISO 20000 ce ne sono pochi la ISO 1001 è la norma di gestione della qualità generica si possono certificare ISO 1001 una palestra un ristorante un produttore di biscotti una impresa idile un ente pubblico invece la ISO 20000 ha una norma settoriale come succede nell'automotive nell'alimentare e la può applicare solo chi si occupa di servizi gestiti nel mondo IT questo è importante perché come dirò spesso come dirò dopo per adesso la la 20.000 è una norma di inizia questa slide è piuttosto importante per chi si occupa a livello professionale dei sistemi di gestione e in particolare dei campi dei perimetri di certificazione ora un'organizzazione si può certificare ISO 20000 anche se non ha interamente se non eroga interamente i servizi purché siano soddisfatte due condizioni la prima che serve in provider dimostri accountability questo parolone che si trova anche nella sicurezza non si riesce mai a capire come tradurre quindi questa responsabilità di dover dar conto quindi il servizio può anche essere dato all'esterno un processo può essere dato all'esterno ma il servizio provider deve dimostrare di governarlo governarlo è una parola che è molto significativa inoltre non può esserci una una sourcing completo il service integrator deve almeno fare qualche parte del sistema di gestione o qualche fase dei servizi i servizi integrator chi sono e questo è il tipo caso il tipico caso di servizi integrator senza fare nomi ma tanto più o meno sappiamo tutti chi sono a livello mondiale sono questi multinazionali che hanno in catalogo centinaia di servizi di tutte le categorie questi chiaramente sono tutti svuoti ovviamente da fornitori ma loro fanno appunto non solo l'integrazione ma fanno l'accountability cioè li governano importante ogni tanto qui c'è chiaramente buona fede qualche discussione nei campi applicazione della IS2000 non ci possono essere i prodotti materiali le forniture quindi se la classica azienda fa che ne so compravendita di hardware software e più fa la gestione della manutenzione lasciatemi dire bene l'hardware software se ne devono rimanere nel certificato IS20001 ma non possono essere compresi ovviamente perché non sono servizi nella nel campo di applicazione della 2000 ora qualche vantaggio poi come sempre oltre ai vantaggi ci sarà anche qualche qualcosa da pagare allora prima di tutto banale il primo stiamo parlando di una norma ISO IEC e quindi di uno standard conosciuto in tutto il mondo non serve non serve spiegarlo perché si sa di cosa vuole dire è riconosciuto dappertutto come si diceva precedente attuare e sperabilmente certificarsi con il data register ovviamente ISO 2000 vuol dire non improvvisare tra essere un grandissimo service provider il numero uno della zona ma farlo in maniera artigianale e farlo con un sms un sistema di gestione del servizio c'è una bella differenza la differenza è che i processi sono pianificati documentati monitorati misurati eccetera eccetera quindi un processo dei processi industrializzati sperabilmente se attuiamo e ci certificiamo ISO 2000 dovrebbe io dico deve aumentare la situazione del cliente voi vedrete nelle slide che spesso volentieri io ho sottolineato la parola utente la ISO 2000 ovviamente perché alla fine per quanto un'impresa compri servizio il buyer compri servizio poi è usata da questo servizio è impiegato da utenti chiaramente è una norma che dà molta importanza agli utenti quindi la situazione del cliente e degli utenti nonché la consapevolezza delle persone il punto 4 è diciamo prosaico ma nessuno di noi vive d'aria molto importante il riconoscimento del mercato quindi essere certificati 20.000 come dicevo prima non è da tutti nel mondo dei servizi gestiti e questo deve essere una preferenza nei bandi di gara dalla PA nei contratti con i privati e nel rating dei clienti dicevo prima che i fornitori di servizi gestiti sono tanti quelli certificati per adesso 20.000 sono pochi e quindi è sicuramente uno schema di nicchia questi sono i dazzi da pagare la 20.000 è come tutti coloro i quali di voi conoscono le norme di settore lo sanno è una norma complessa c'è poco da girarci intorno non è la ISO 9001 soprattutto il capitolo 8 vedrete è rognoso rognoso cosa vuol dire ha tanti processi tante clausole anche i passaggi che nella 9001 o in altri schemi sono impliciti come succede negli schemi settoriali nella 20.000 sono esplicitati quindi sostanzialmente c'è poco da interpretare alla fine parlerò brevissimamente dei tool per supportare la gestione dei servizi gestiti si può benissimo certificarsi ISO 20000 del resto non è non è richiamato dallo schema ma usare uno di questi affari è da molti vantaggi molti vantaggi io stesso in sede di audit e in due occasioni il primo anno l'audio iniziale le aziende hanno non hanno non avevano l'applicazione c'è stato molta c'è stato molto impegno sia da parte loro ma anche da parte dell'auditor per valutare le evidenze il secondo anno con l'adozione di un software dedicato ai servizi gestiti è stata tutta un'altra cosa è stata tutta un'altra cosa quindi possibile adottuarle ma ovviamente gli oneri sono maggiori per coloro i quali non sapessero cosa sia l'ITIL quella parola quell'acronimo in mezzo con il marchio registrato immagino che qualcuno di voi se bazzica nel mondo dei servizi invece sappia benissimo cosa sia deve sapere che a livello mondiale sono due lì i framework la 20.000 e l'ITIL adesso in maniera estremamente superficiale perché ci vorrebbero veramente tre giorni per parlare dei TIL perché è un set molto complesso di stream diciamo dedicati alle varie tematiche detta in maniera molto semplice più o meno più o meno trattano la stessa materia solo che l'ISO 20.000 è lo standard per l'azienda per certificare l'organizzazione all'ITIL invece è la stessa cosa tra mille virgolette mi scuseranno quelli che conoscono l'ITIL ma è dedicata alle persone quindi sono le persone certificate nel mondo dei servizi gestiti coloro i quali ci lavorano lo sanno benissimo è tipica l'espressione devo trovare un service manager certificato ITIL devo trovare un fornitore che abbia persone certificate ITIL il mio cliente nel contratto vuole che due o tre persone del service desk siano certificate ITIL questo per dire che è molto 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 importante e diffuso se qualche persona dell'organizzazione conosce o è certificata ITIL molto meglio io stesso posso dirvi che anche a livello di linguaggio a livello naturalmente di interazione è un'altra cosa perché non c'è bisogno di dettagliare di spiegare quando si dice availability si sa cosa fare cosa dire cosa chiede la ITIL cosa chiede la 20.000 e l'audit scorre in maniera molto più fluida adesso dobbiamo vedere molto velocemente le norme della famiglia 20.000 la 20.000 come tutte le altre dei sistemi di gestione 15 45 14 scusate 45 9 27 eccetera eccetera hanno il loro set di norme quando non dirò trattino 1 vuol dire che sto parlando della 20.000 trattino 1 questa è la norma dei requisiti quindi quella che bisogna attuare per arrivare a una certificazione sottolino la parola transizione che è un diciamo un processo tipicamente dei servizi gestiti l'erogazione anche dei liberi e come dicevo prima questo mitico fornire valore questo fornire valore al committente e all'utente tra poco salterà fuori di nuovo la 20.000 i servizi gestiti storicamente IBM come tante altre cose ha fatto molto negli anni 70 da questo punto di vista nei reparti di assistenza di coloro i quali devono appunto fare assistenza nel mondo software e hardware come dice la norma si può certificare anche un reparto dell'organizzazione dell'azienda o dell'ente pubblico comunque il soggetto che ha un'identità legale quindi i classici NOC SOC anche qua non posso spiegare cosa sono ma sono termini molto diffusi i customer care gli app desk l'assistenza possè il conto assente naturalmente possono essere certificati indipendentemente la trattino 10 la solita norma sul vocabolario questa è una delle tante guide della 20.000 la trattino 2 è una guida su le applicazioni degli sms questa la trattino 5 invece è una una guida sull'implementazione dello standard questa è diciamo molto molto interessante per auditor consulenti eccetera questa la trattino 7 è una guida sull'integrazione come spesso accade tra 20.000 e 27.000 1 questa è abbastanza famosa è un classico che i service provider siano a parte della 9 siano certificati 27 poi si certificano 20 questa 27.13 è la linea guida sull'integrazione tra 27.001 e 20.000 poi c'è questo trattino 11 molto interessante che ovviamente ovviamente perché ovviamente sono due framework che trattano famosissimi internazionali trattano lo stesso material Exelor cioè il detentore dello schema ITIL e ISO IEC si sono messi insieme e hanno fatto questa interessantissima linea guida sulle interazioni tra 20.000 e ITIL il solito schema che più o meno c'è su tutte le norme di sistema che sintetizza la struttura della della norma stessa a sinistra abbiamo il cliente che come al solito questo schema è piuttosto trito di trito all'inizio fornisce requisiti questi needs expectations oppure requisiti contrattuali veri e propri e poi riceve una volta che la macchina ha fatto il suo mestiere riceve servizi e in mezzo ci sta la struttura la struttura che è come tutte le norme di sistema è formata dal contesto della leadership della pianificazione tutti i processi di supporto sotto abbiamo il mondo del del reporting la 20.000 ha nel capitolo 9 un sotto paragrafo aggiuntivo che appunto si chiama reporting e dall'altra parte il miglioramento in mezzo ci stanno le operation a parte il solito pianificazione e controllo dell'attività operativa le operation in mezzo abbiamo 1 2 3 4 5 6 processoni processoni ciascuno formato da processi vi segnalo che l'IT di cui vi parlavo sopra più o meno scusate denominano più o meno i processi alla stessa maniera naturalmente quindi abbiamo il service portfolio che tra poco vedremo di cosa si tratta le agreement in agreement le supply and demand il macro processo complicato bisogna dirlo del design build and transition la parte di resolution e sotto il service assurance questa garanzia del servizio adesso siamo arrivati naturalmente alla parte centrale della nostra chiacchierata vedremo uno per uno i processi soprattutto del capitolo 8 e qualche cenno gli aspetti che ho ritenuto più importanti anche delle altri capitoli prima di arrivare alla descrizione delle varie clausole della norma qualche definizione queste sono allora un estratto di definizioni che io ho deciso di riportare qua per le che mi sembrano più rilevanti la 20.000 trattino uno ha un sotto insieme di definizioni rispetto alla 20.000 della terminologia la 10 naturalmente per chi bazzica nel mondo dei servizi gestiti sono aria fritta invece per coloro i quali non hanno mai sentito parlare di certe cose sono molto importanti allora dicevo che annunciavo che valore era una parola chiave che sarebbe saltata fuori più volte che cos'è un servizio colpo di scena non è come un prodotto che alla fine ha una sua finalità intrinseca in realtà è un mezzo è un mezzo per far che cosa per erogare valore al cliente cosa ci fa questo con questo valore il cliente agevola i risultati quindi il cliente ha le sue cose da fare sentimi dire grazie a questo servizio che fornisce valore può lavorare meglio può raggiungere in maniera più efficace più efficienti i suoi risultati quindi il servizio è un mezzo parolona asset quelli che nel mondo contabile italiano vengono in maniera infelice chiamati cespiti che ovviamente non dà l'idea perché si pensa sempre ai macchinari attrezzature al tavolo dell'ufficio l'asset è tutto ciò che ha un valore quindi anche le competenze di una persona sono asset un contratto un asset la reputazione un asset configuration item qui ahimè cominciamo a entrare nel gergo nel gergo spinto dei servizi gestiti adesso cercherò in maniera estremamente rozza di spiegare cosa sia un configuration item faccio una parentesi sia questo termine che tanti altri quando uno va sul google e vuole leggere la scheda del produttore del software la legge è lunga 40 righe dopo che ha finito di leggere non ha capito niente invece quando si trova per la prima volta di fronte a un'applicazione delle persone che fanno questo mestiere si capisce subito di cosa si tratta questo è normale dunque in maniera molto volgare un asset il notebook con cui sto facendo questo webinar è un asset ma naturalmente posso scomporlo lo scompondo nelle memorie lo scompondo nella scheda madre lo scompongo nel monitor e questi sono i componenti dell'asset un po' come i prodotti hanno la loro distinta quindi un assieme sotto assieme il gruppo sotto gruppo eccetera gli AI i configuration item non sono altro che le proprietà le caratteristiche gli attributi e i legami tra di loro la parola legame è estremamente importante degli asset e dei componenti degli asset perché sono importanti perché se si vuole erogare il servizio in maniera controllata occorre avere il quadro chiaro della configurazione cioè dei configuration item in maniera controllata chi ne sa di 27001 ovviamente questo o di 22301 di business continuity è aria fritta la 20.000 contiene un bel processo di security management scusate l'incidente sappiamo che è l'introduzione non prevista di un servizio in questo caso oppure il servizio la funzione del servizio è mantenuta ma c'è una degradazione a livello prestazionale oppure non è ancora non c'è ancora il downtime come si dice in gergo ma è un quasi incidente cioè ci sono degli eventi che potrebbero innescare un impatto sul cliente sul utente il problema da non confondere con l'incidente non è nient'altro che la causa che sta a monte di un incidente o più probabilmente di n incidenti che possiamo catalogare possiamo analizzare per qualche affinità in modo tale da rilevare da trovare questa root cause cioè il problema che genera che genera uno o più incidenti l'errore noto non è nient'altro che un problema che a cui abbiamo dato un nome e cognome cioè l'abbiamo catalogato per root cause questo è il problema rilascio release questo è un'altra di quelle parole che quando la si spiega a una persona che non sa nulla di software o di servizi IT fa fatica a capire poi quando lo vede è ovviamente tutto molto più semplice in buona sostanza rilascio termine che comunque si usa anche nel mondo della gestione dei documenti eccetera eccetera non significa altro che è un processo formato da fasi o da sottoprocessi quello di fare in modo che il servizio modificato il nuovo servizio sia trasferito nell'ambiente di produzione quindi i passi dall'ambiente di collaudo all'ambiente di produzione e le feature siano rese attivati perché un servizio può essere deployato benissimo nel suo ambiente di produzione ma ancora non essere abilitato all'erogazione invece rilascio è proprio tra virgolette mettere i flag e gestire appunto anche a livello di configurazione il nuovo servizio o il servizio modificato le richieste di cambiamento le request for change aspetto estremamente portante famoso del mondo dei servizi gestiti sono appunto le proposte di cambiamento non solo dei servizi dei suoi componenti ma anche del sistema praticamente la ISO 20000 come tanti framework nel mondo del software e dell'IT vuole che il processo di gestione delle modifiche sia svolto in maniera controllata fin dall'inizio quindi non bisogna alzarsi la mattina e decidere di fare una modifica ma bisogna attraversare un processo workflow come si dice in gergo questo è facile come un prodotto materiale anche i servizi ovviamente possono essere scomposti il componente del servizio non è nient'altro che un componente una parte un elemento del servizio un sottoservizio levelability un termine famosissimo per chi abbazzica di questioni IT non è nient'altro che l'uptime la capacità di un servizio in questo caso quindi si usa molto nel mondo dell'hardware ma qui stiamo parlando di servizi la capacità di funzionare o a un istante concordato o soprattutto per un periodo di tempo concordato ci sono delle metriche che vedremo la continuity molto connessa al mondo alla disponibilità ma è una cosa diversa che cos'è è qui ovviamente chissà di 22301 sa benissimo di cosa stiamo parlando è invece la possibilità la capacità la forza di erogare il servizio senza interruzione senza disruption come si dice in gergo le mitiche SLA mitiche perché ormai diciamo che ormai tante persone anche quelle dei reparti non propriamente di sviluppo o del service desk sanno di cosa stiamo parlando soprattutto a livello di business sono gli accordi i contratti meglio gli allegati contrattuali che contengono queste tabelle più o meno complicate che descrivono gli obiettivi che il service provider si impegna a rispettare con le sue le sue metriche per esempio la percentuale di velabiti che abbiamo visto è una classica SLA il tempo di repristo è una classica SLA i vari tempi di risposta nelle fasi dei ticket sono una classica SLA questa gestione del servizio è una delle solite definizioni un po' filosofiche un po' astratte che spesso nel mondo della gestione ci sono che cos'è non è nient'altro che il set di procedure processi metodologie logiche che sovraintendono alla gestione del servizio anche qua ho sottolineato la parola transizione la parola transizione e la parola valore adesso dobbiamo vedere andiamo al 6.3 piano di gestione del servizio che è un paragrafo piuttosto importante anzi togliamo il piuttosto importante manuale è una termine che ho usato io giusto per farmi capire da coloro i quali non hanno mai visto nella loro vita un piano di gestione del servizio la parola manuale rende l'idea alla fine è un manuale che cos'è è appunto un documentone o un documentino a seconda complessivo oppure formato anche da documenti separati ma che possono vivere in maniera che devono vivere in maniera unitaria che descrive il servizio e come è gestito e deve essere concepito anche a livello di struttura di framework parlando in termini molto semplici di titoli di titoli secondo il life cycle del servizio da quando viene concepito a quando viene ritirato terminato coloro i quali hanno tanti servizi una furbata è quello di fare un manuale per business service type cioè per macro servizio diciamo così faccio un esempio cyber security non è un servizio nel 2023 cyber security è tanti servizi perché posso fare vulnerability assessment implementation test le scansioni del anti malware posso fare la sicurezza per gli end point l'infrastrutturale cioè ce ne sono tanti di servizi del mondo cyber security ecco lo posso fare il manuale del macro servizio cyber security la norma ha una lista chiusa di contenuti del del piano di gestione del servizio di questo manuale e quindi in maniera molto veloce la lista di servizi le limitazioni le obbligazioni il ruolo molto importante ruoli non solamente dell'organizzazione dell'azienda tanto per capirci ma anche quelli dei fornitori del cliente e dei reparti interni le risorse come coinvolgiamo le parti le parti interne e le parti esterne soprattutto le tecnologie e le modalità di monitoraggio paragrafo estremamente importante a volte un po' trascurato come dicevo all'inizio la 20.000 essendo una norma verticale essendo una norma settoriale ha diversi punti in cui esplicita esplicita in maniera shell in maniera mandatoria le informazioni documentate quindi il 754 paragrafo aggiuntivo rispetto a 9001 ha ovviamente il perimetro e la politica di questo ovviamente banale il piano di gestione del servizio che abbiamo appena finito di vedere una politica a parte la politica del sistema di gestione la politica di gestione dei servizi dobbiamo avere altre due politiche del change management della security e dobbiamo poi documentare come nel mondo 22.301 nel mondo del business continuity management i piani di service continuity i business continuity plan diventano in questo caso service continuity plan i processi quindi una mappatura dei processi fatta bene i requisiti del servizio che tra poco vedremo dove devono essere descritti anzi lo vediamo subito perché devono essere primariamente descritti nella lettera G cioè nel catalogo o nei cataloghi dei servizi di cui parleremo tra poco ovviamente le SLA essendo documenti contrattuali i contratti di fornitori in questo caso i fornitori esterni nella 9001 il contratto può essere due righe di mail con qualche prezzo una condizione la descrizione sommaria con un'accettazione anche qua informale da parte dell'organizzazione no nel mondo 20.000 questa cosa non funziona non funziona perché ci devono essere dei contratti nel vero senso della parola fatti bene dettagliati con classicamente tanti tanti legati e questo è importante sottolinearlo dobbiamo documentare gli accordi con i fornitori interni che possono essere o dei reparti in reparti dell'organizzazione o come spesso accade nel mondo dei gruppi la casa madre la holding la capogruppo o questi customer acting e supplier di cui parleremo tra poco lo anticipo accordi documentati con i clienti quando fanno qualcosa svolgono qualche fase del processo come se fossero un fornitore e ovviamente le procedure le n procedure richieste dalla norma allora il 7.6 la conoscenza del 20.000 è più stringente è più precisata è meno generica della 9.1 qui ho fatto degli esempi di di cosa deve costituire di cosa può costituire la conoscenza naturalmente le kb le noise base chi bazzica di software chi bazzica di t sa di cosa sto parlando formano strutturate codificate vanno tenute formano è l'aspetto principale della conoscenza poi naturalmente tutte le applicazioni di software o quelle proprie del service management o quelle di un contact center a desk le wiki di servizio ci sono organizzazioni che magari non hanno software ma volanti ma prendono sapete che è gratuita l'architettura di Wikipedia la usano esattamente come le voci di Wikipedia per generare le proprie wiki interne dei servizi il manuale del desk dell'assistenza del contact center di chi fa la gestione dei ticket quello che volete cioè mettere in bella le istruzioni operative fare un set organico se non abbiamo un software specifico che lo fa già di mestiere anche qua le risoluzioni quindi i ticket soprattutto quelli che hanno avuto più alto gradimento quindi le 5 stelle su 5 anche qua messe in bella vuol dire che non devono essere sparse nei tavoli ma devono essere categorizzate messe insieme e ovviamente un CRM che nella 20.000 come vedrete farebbe molto se ci fosse assolverebbe a tanti aspetti adesso finalmente siamo arrivati al capitolo 8 quindi quello centrale cominciamo da quello più semplice l'8.1 questo operation scusate queste pianificazioni controlli operativi quindi delle operation qui nella 20.000 si parla di pianificazione della progettazione o del deployment o del build eccetera eccetera di pianificazione del servizio questo questa pianificazione naturalmente non c'entra niente è la pianificazione terminale quindi questi sono degli esempi miei che metto qua giusto per far capire di cosa stiamo parlando a volte mi capita di sottolineare che già delle metodologie che l'azienda sta usando vanno vanno descritte sono delle evidenze di attuazione di questo paragrafo il primo che mi viene in mente è naturalmente uno scatenziario quindi che supporti questa questa logica del collaborative management è sempre più diffuso soprattutto dal 2021 poi ora senza prendere acquistare mirabolanti software che fanno tante altre cose già il 365 o l'ecosistema di Google pensiamo solamente a calendar fa già molto in termini di scadenziari di controllo condiviso dell'attività naturalmente tutto il mondo commesso degli ERP se abbiamo dei PM uno dei loro tanti compiti è proprio quello di coordinare le attività e delle persone coinvolte del progetto e quindi questo vuol dire pianificare in buona sostanza le attività dell'azienda riunioni fatte bene sapete che assolgono tantissimi tantissimi compiti riunioni fatte bene pianificate ben documentate a livello di BU a livello di service fanno da pianificazione da controllo operativo nonché tutta la pletora di strumenti ripeto molto diffusi dopo soprattutto anche in posti dove non si sapeva neanche che esistessero sto parlando delle piccole aziende della manufattura tutto il mondo della chat sostanzialmente ora come dicevo sopra ovviamente non è obbligatorio avere mirabolanti software IRP CRM eccetera per non parare i software di service management per certificarsi i 20.000 ovviamente gli oneri sono un po' maggiori ricordate sempre che nel gergo quando si dice processo digitalizzato non significa informatizzato cioè non significa outlook excel word powerpoint questo è informatizzato digitalizzato vuol dire che c'è un sistema un'applicazione sotto specifica che appunto automatizza il processo arriviamo al portfoglio paragrafo piuttosto corposo dovrò per forza di cosa essere molto veloce cercherò di dare un'idea per chi non ne sapesse non avesse mai sentito parlare già la parola portfoglio diciamo un po' strana allora l'ho tradotto così giusto per farmi capire noi entriamo che ne so in una fiera e dopo dopo il varco vediamo l'espositore di plastica con dentro le brochure con dentro le locandine dei vari espositori ecco quello è un portfoglio dei servizi naturalmente è un'immagine quindi è appunto la vetrina dei servizi della gamma dei servizi che l'organizzazione eroga cosa deve contonere il portfoglio cosa deve coprire sicuramente il piano di gestione dei servizi quello che di cui abbiamo visto che descrive i requisiti ho sottolineato la parola requisiti perché essendo a livello alto diciamo a livello del business analyst a livello tra virgolette commerciale uso questa parola che in Italia è molto diffusa quindi si capisce di cosa sto parlando la gente che tratta marketing vendite contratti relazioni prospect eccetera eccetera solo la parte requisiti non deve entrare nel dettaglio nei dettagli negli aspetti di costituzione diciamo così di produzione ci sono già altri documenti che devono essere generati deve descrivere il service portfoglio le altre parti cosa fanno cosa erogano che parti i servizi forniscono occhio ai processi di supporto forniti da capogruppo perché dico questo perché chi non è avvezzo alle logiche dei sistemi di gestione diciamo così integrati a livello di gruppo all'inizio fa un po' fatica guarda l'HR l'EHR lo fa la capogruppo bene io ho sentito questa battuta adesso sulla cicliste cosa ci scrivo è ovvio che non rileva come dicono gli avvocati che un processo sia tenuto sotto controllo da un owner interno all'organizzazione piuttosto che da una persona che sta nella capogruppo quella persona deve partecipare all'audit e presentare per esempio il processo di gestione strutture umane allora customer acting as a supplier tradotto i clienti in veste di fornitori nella manufattura ci sono tanti casi soprattutto in tali settori per alcuni può essere qualcosa di un po' curioso un po' strano nel mondo del software è la normalità ho messo lì l'UAT cioè l'users accept and test quindi i collaudi finali lato utente che è la classica attività che fanno ovviamente i clienti quando i clienti fanno questo mestiere devono essere trattati come dice questo requisito questa clausola attraverso dei accordi documentati né più né meno come fossero fornitori ma sono fornitori anche perché se questo cliente non fa i test come previsto nel test plan nel calendario stabilito eccetera eccetera e quindi lui stesso ha una ripercussione le parti le parti esterne le parti interne i clienti in veste di fornitore devono essere valutate se sono valutate ci devono essere criteri specifici chiaramente per ciascuna categoria e nel tempo la valutazione deve essere riesguita cioè il concetto di monitoraggio i servizi le componenti i processi le fasi cioè gli output i deliverable che queste parti diciamo altre parti rispetto all'organizzazione generano devono essere documentati mi raccomando identificate e dominate come dice la 20.000 non ci devono essere descrizioni generiche ma nomi e cognomi ragioni sociali l'otto due quindi con il service portfoglio diciamo così spero di essermela cavata qui invece è molto più semplice la gestione del catalogo quindi catalogo più o meno tutti quanti sappiamo bene che cos'è la 20.000 chiede di avere dei cataloghi servizi ora che cos'è cosa sono i cataloghi non lo spiego perché lo sappiamo tutti possono essere o devono essere secondo i punti di vista documenti anche gradevoli quindi anche i classici brochure a livello di marketing con le faccine le figurine i colori eccetera eccetera va benissimo anche perché come ha sottolineato la norma dice che devono ovviamente essere consultate dai clienti utenti le parti interessate l'importante che non sia solo marketing ma ci sia anche un po' di ciccia cioè i contenuti previsti da questa clausola del catalogo dei servizi siano siano recepiti ovviamente non sto neanche dirlo se uno ha un CRM uno dei tanti compiti di un CRM è fare queste cose e fare i requisiti della descrizione dei prodotti e quindi va benissimo detto che esiste questa mitica 550.000 1 500.000 1 che tratta gli asset management cosa sia un asset l'ho spiegato prima sottolino che gli asset sono anche i beni materiali quindi mi raccomando non è come spessano pensano all'inizio molti del reparto IT solo l'hardware software la reputazione le polizze i contratti le licenze qui ha fatto un elenco non esaustivo devono essere appunto trattati gestiti cosa vuol dire trattati gestiti mappati documentati messi su un archivio database manutenuti le loro proprietà descritte bene e ci deve essere una gestione nel senso che dall'acquisto fino al collaudo in accettazione alla immissione nel punto di utilizzo alla manutenzione al ritiro questo workflow alla fine di essere documentato e tracciato la 2011 cioè l'edizione precedente della 20.000 richiamava obbligatamente il CMDB CMDB i match ci vorrebbero quattro ore per spiegare cos'è un CMDB apre una parentesi un po' polemica se uno va sui siti di produttori di CMDB e legge non capisce chiaramente cosa sia un CMDB quando uno lo vede vede le schermate capisce subito di cosa si tratta adesso lo dirò tra un secondo quindi se abbiamo un CMDB per fare l'asset management è l'apoteosi se abbiamo una procedura del software del tool di service management ottimo se facciamo l'applicazione cina access fai da te buono lo si può fare questo mestiere anche con i fogli Excel ma naturalmente gli oneri manutentivi sono estremamente rilevanti e la vedo veramente difficile quando allora se gli asset sono 10 va bene ma se sono 50 100 non parliamo di numeri più alti è praticamente impossibile il CMDB configuration management database non è intanto che un software che controlla in termini informatici stretti le configuration item quindi tutte queste proprietà caratteristiche granulari degli asset e dei componenti che devono essere controllati per erogare il servizio sono applicazioni complesse naturalmente ormai il SAS lo usano più o meno tutti non è più obbligatorio acquistarlo ma si fa il classico software e service e lo si può utilizzare esattamente come un stessi software in cloud la ISO 10 007 per chi non lo sapesse è la norma sulle configuration management la gestione e configurazione non è nata come molti software pensano non è nata nel mondo del software o tantomeno dei servizi gestiti è nata negli anni 50 nel mondo delle distinte basi di prodotti un po' complessi chiaramente sto scherzando come un aeroplano un'automobile un ponte quindi non è qualcosa che è nata nel mondo da quando esiste il software la gestione della configurazione che cosa è la configurazione la configurazione è come ho detto sopra quindi lo ripeto in modo tale che più o meno forse ripetendolo anche le persone che non hanno mai sentito parlare di questo termine di questo concetto forse qualcosa riescono a fotografare non è nient'altro che l'insieme di questi attributi di dettaglio quindi ripeto io sto parlando con un notebook con questo notebook la configurazione di questo notebook non è nient'altro che l'elenco strutturato con tutte le proprietà il serial number il produttore la versione del driver eccetera 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 di questo notebook importante all'inizio può sembrare strano poi se ci si pensa su un secondo è ovvio anche se ci si ricorda cosa è una configuration item la norma obbliga a infilare nel cmdb oppure nella applicazione che stiamo usando per mappare la configurazione per gestire la configurazione anche gli stessi servizi che cos'è la baseline la configuration baseline io ho aggiunto distinta base perché più o meno una distinta base nella vita tutti noi l'abbiamo vista ecco è una parola che non esiste nella 20.000 è nello snapshot della quindi una certa data in un certo istante della configurazione di un asset di un componente di un servizio o di un sottoservizio ecco mi raccomando anch'io come vedete continuo a parlare di asset ma le configurazioni sono anche dei servizi quindi un servizio la sua baseline sono le persone che lo stanno erogando quelli che l'hanno devono fare la gestione dei ticket eccetera eccetera quindi non solo mezzi materiali quando facciamo un aggiornamento quindi controllato di una configurazione va da sé che le modifiche le modifiche se aggiornamento vuol dire che qualcosa si è modificato le modifiche delle configuration item interessate devono essere attuate tutto questo deve essere gestito in maniera controllata controllata sapete bene che il management vuol dire pianificata procedurializzata documentata barra tracciata monitorata siamo arrivati alle 8-3 relazioni accordi cosa vediamo in questo schema vediamo sostanzialmente questo in mezzo ci sta l'organizzazione il service provider a destra abbiamo i clienti o quelli veri quelli che sostanzialmente pagano la fattura tanto per capirci chiaro che nel caso una PDA non equivale o i clienti interni con questi abbiamo gli SLA e abbiamo il processone 8-3 service labor management quindi il processo che controlla governa la gestione dell'ESLA a sinistra invece abbiamo il mondo dei fornitori quindi per chi vazzica di contabilità a destra del ciclo attivo a sinistra al ciclo passivo abbiamo i contratti ovviamente con i fornitori e volutamente la norma parla di contratti invece con i fornitori interni che sia la capogruppo una società del gruppo che sia un reparto del service provider invece non ci sono contratti ma ci sono la stessa cosa ma giuridicamente è un'altra roba un accordo documentato di servizio e sotto abbiamo questi mitici customer acting as a supply cioè i clienti quando svolgono attività come fossero fornitori una cosa molto importante vedete che i sub fornitori i fornitori di fornitori non fanno parte del supply management e non fanno parte delle sms devono essere controllati devono essere monitorati devono essere valutati dai fornitori dunque relazioni accordi lato clienti e poi l'omologo ribaltato i 180 gradi lato fornitori ma più o meno più o meno più o meno attualmente si assomigliano quindi dobbiamo avere un bel archivio dei clienti con tutti i contatti gli utenti le parti interessate ovviamente chi ha un CRM è una delle funzioni fondamentali di un CRM occorre nominare io a business manager o customer operation manager o service manager naturalmente sono ruoli diffusi nel mondo dei servizi ma che ho messo io in queste slide e giusto per farmi capire sono le persone del lato business quindi quelli che più o meno si occupano di contratti relazioni prospecting eccetera eccetera specifico per servizio chiaramente un'azienda grande ha un business manager o dei service manager dedicati per i progetti di servizi o di sede di settore eccetera eccetera un'azienda piccola una persona fa tutto questo è normale occorre una comunicazione strutturata consent inclusi quando io sottolineo la parola strutturata vuol dire non improvvisata sostanzialmente vuol dire due cose o digitalizzata oppure ben pianificata in termine ben pianificata quindi vuol dire che questa pianificazione deve essere documentata proceduralizzata di chi che cosa comunica quando come perché i servizi devono essere ovviamente monitorati attraverso dei KPI adeguati e come dicevo prima il gestione l'esla deve essere anche se non è un processo digitalizzato ma deve essere un processo robusto quindi ci deve essere qualcuno che con una procedura con una metodologia codificata si occupa di generare l'esla di farle approvare al cliente o revisionare insieme al cliente e soprattutto di monitorarle come dicevo sopra qui sarò intenderò impiegherò 30 secondi perché più o meno come lato cliente il service provider naturalmente è un cliente di fornitori quindi l'esla vedete che ho messo tra virgolette che dobbiamo far sottoscrivere ai fornitori quello che è più importante è l'ultima change management esteso dal fornitore la classica frase ma queste modifiche le fanno i fornitori come a dire io non ne so nulla o non ci posso farne nulla nella 20.000 non hanno senso bisogna appunto regolamentare attraverso accordi attraverso contratti che il fatto che il fornitore prima di attivare un change lo deve dire lo deve deve fare una request for change questo è molto importante ovviamente all'inizio questo può essere un po' difficile soprattutto con i fornitori questo chiaramente viviamo tutti viviamo tutti nella vita reale con i fornitori con cui sia un rapporto storico però piano piano le cose poi si attivano sui fornitori interni e clienti acting esa saplare praticamente ho già parlato la cosa da sottolineare che è un po' strana è un po' strana vedete il secondo punto soprattutto per le organizzazioni piccole vuol dire vengono un po' brutto dover gestire i clienti come fossero fornitori anche dal punto di vista documentato e contrattuale oltre alle SLA e il target delle SLA ci sono queste OLA che praticamente è operational level agreement sono la stessa cosa ma per i reparti interni e gli underpin e contract sono in buona sostanza dei dettagli i contratti gli accordi che descrivono come raggiungere queste OLA sugli accordi documentati con la capogruppo ho già detto tutto quello che c'era da dire offerta e domanda contabilità analitica dei servizi anche questa parola nella 20.000 non c'è ma se io dico contabilità analitica più o meno tutti sappiamo di cosa stiamo parlando quindi occorre una modellazione e un processo di costing e ovviamente di budget non di pricing obbligatoriamente perché storicamente quindi la 20.000 non tratta di prezzi ma tratta di costi perché essendo nata nel reparto di assistenza di chi faceva attività informatiche chiaramente questi non si occupavano di prezzi ovviamente se un'azienda ha già la sua bella contabilità industriale il suo bel controllo gestione e vuole allargare tanto di guadagnato come tutti sanno quelli che si occupano un po' di contabilità analitica o controllo gestione non c'è contabilità industriale se messemente o trimestralmente non si fanno i soliti report di confronto tra i costi effettivi quelli attuali come si dice in gergo e quelli previsti e quelli a budget e inoltre la norma cita anche qualcosa che assomiglia molto a un rendiconto finanziario io ho detto ho scritto scadenziario in tante uscite giusto per far capire meglio domanda e capacità chi come me ha passato tanto tempo nelle reparti di programmazione della produzione per tanti anni sa benissimo di cosa cosa vuol dire domanda e capacità sostanzialmente è una delle tanti procedure di un MRP quindi vediamo di sintetizzarlo in tre parole per chi non avesse mai sentito parlare di domanda e capacità la domanda è praticamente il risultato della pianificazione a medio lungo periodo alimentato da ordini da forecast budget chiaramente quindi è alla fine vedete tra virgolette l'ho sintetizzata quanta produzione serve servirà con l'MRP i run sono di materiali attrezzature macchine nel mondo delle service management chiaramente sono FTE full time equivalent ticket a settimana lì sono degli esempi che ho messo così la quantità di ore mese per ciascun servizio comunque è quello che mi servirà quello che dovrò produrre scusate quello che dovrò produrre nel medio lungo periodo chiaramente questo medio lungo periodo non è specificato lo stabilisce come qualsiasi processo di pianificazione della produzione dell'organizzazione se ho una domanda devo avere una capacità la capacità non è niente altro che la potenzialità positiva cioè quello che io in prospettiva potrò disporre in termini di risorse per poter soddisfare questa domanda quindi alla fine si tratta di da una parte avere quello che io dovrò produrre dall'altra quello che io potrò produrre chi si occupa di questa materia deve periodicamente far incrociare far quadrare il mondo appunto della domanda col mondo della della capacità produttiva ovviamente la capacità deve produttiva deve considerare anche le SLA no? e altre dimensioni 8.5 questo è non che quelli che lì mi hanno visto sinora scherzassero è veramente un processo tosto è tosto perché anche per ragioni storiche perché come dicevo mentre molti sono veramente bravi a erogare il servizio a monitorarlo eccetera eccetera un po' di meno c'è meno voglia tra virgolette di dedicarsi anche a pensarlo pianificarlo progettarlo chiaramente in termini documentati quindi non c'è non c'è allora progettazione costruzione transizione è un processo formato da sostanzialmente tre tre ambiti il change management molto importante per parlare di change per parlare di modifiche occorre che ci sia una regola occorre che ci sia un disegno quindi se non possono esserci modifiche controllate se io non ho stabilito a priori come devono essere fatte le attività appunto di progettazione e transizione come dicevo prima occorre una definire documentare una politica del change management le request for change e l'IMAC l'IMAC è la probleme che si usa soprattutto nel mondo di chi fa la manutenzione dell'hardware ma ormai si usa anche nel mondo del service management non sono altro che i ticket per aggiungere spostare chiudere modificare servizi vanno registrati e classificati importante distinguere i change che richiedono progettazione da quelli che non richiedono progettazione non tutti i change richiedono una progettazione o un trasferimento questo flusso processo articolato che vedrete si ripeterà in molte slide e quindi non lo ripeterò significa che come ho detto più volte deve essere ben stabilito a priori a tavolino come il change management è eseguito dall'inizio l'approvazione della richiesta l'esecuzione la verifica la chiusura e soprattutto la verifica degli impatti questo è un punto debole la 20.000 lo richiama degli impatti del change su questo servizio sul resto sul resto del catalogo occorre avere un recovery plan qualora i change una volta deployati nell'ambiente di produzione avessero un'anomalia è importante se si parla di design di development importante distinguere tra sembrerebbe strano ma a volte le idee non sono ben chiare se quello di cui stiamo parlando a livello di progetto è per un nuovo servizio o una modifica del servizio esistente questo ho fatto un cenno quando ho parlato di portfoglio ovviamente tutte le nuove necessità filtrate dal portfoglio nuovi clienti nuove servizie nuove feature dei servizi la domanda eccetera eccetera vanno come input alla pianificazione della progettazione della transizione del processo sotticolato ho già detto più volte deve essere anche calendarizzato cioè deve essere precisato non soltanto quanto deve durare una fase un'operazione ma anche quando deve essere svolta quindi giorno a volte anche ora e minuto se c'è un project manager è uno dei tanti compiti del project manager tra i change e ovviamente importante è anche pensare pianificare anche i change di chiusura cioè quelli che rimuovono terminano un servizio o lo trasferiscono quando questo ho fatto un cenno quando ho parlato di configuration management chiaramente se progetto e poi erogo un nuovo servizio o lo modifico i configuration item devono essere aggiornati prima di deployarlo devo fare lo snapshot della della baseline della configuration baseline in modo tale che sia congelata la configurazione prima del rilascio bisogna distinguere i processi di progettazione build a proposito build io sopra ho tradotto costruzione non c'è nessuno in Italia che traduca nel mondo software anche le stesse applicazioni nella versione italiana o nel mondo dei servizi gestiti la parola build bisogna sapere di cosa si tratta quindi ho messo costruzione giusto perché ho messo tutti i tipi in italiano il build è la fase dello sviluppo software e quindi dei servizi gestiti in cui il codice il codice sorgente viene pacchettizzato in pacchetti eseguibili stessa cosa per i servizi la transition non è intaltro che trasferire da o o per un servizio o un servizio modificato nell'ambiente di produzione nel live environment mi raccomando i collaudi test plan i casi di test test plan degno di questo nome chi fa che cosa fatto quasi sempre in maniera tabellare cosa si aspetta qual è il risultato atteso il risultato poi quando diventa report è il risultato ottenuto sì no questo è molto importante lo dicevo prima quando faccio una modifica un nuovo servizio tenere sempre a mente nella logica di portfoglio eventuali impatti sugli altri servizi rilascio allestimento allestimento è la traduzione italiana di deployment anche qua come builder non si usa mai l'italiano si dice deployment quindi il software deployato il servizio deployato quello sostanzialmente una volta che è terminato il collaudo messo nell'ambiente di produzione i piani di release plan devono essere manutenuti è chiaro che i rilasci si fanno ci sono rilasci per tanti eventi non solamente gli eventi della progettazione o del change diciamo nel senso di modifica di un servizio esistente si fanno i rilasci perché ci sono state l'incident perché ci sono le serie di request perché c'è il problem management anche tutti questi eventi poi generano un rilascio che deve essere controllato identificare distinguere bene tra tutto ciò che è pianificato e ciò che è emergenza sapete che nel mondo dei servizi il mondo del software ci sono i rilasci emergenziali quelli che vengono eseguiti diciamo così in fretta e furia perché sotto quasi sempre perché ci sono gravi weakness a livello di sicurezza va da sé che in un ambito di sistema di gestione il deployment la release deve essere formale formale vuol dire proceduralizzata e tracciata tutto questo deve essere fatto con dei criteri di certabilità spesso i punti deboli di una certificazione di 20.000 non sono sostanziali ci sono le idee molto chiare ma non sono state queste idee chiare non sono state fissate praticamente queste idee chiare questi criteri devono essere tabellati devono essere descritti in un flusso prima di questo è proprio un requisito della norma oserei dire ovvio per chi sappia di release and deployment prima di avviare il servizio nell'ambiente di produzione il nuovo servizio il servizio modificato la change bisogna congelare la configurazione e quindi poi abilitare le feature attraverso rilascio tutte queste attività devono essere candelizzate quindi messe pianificate anche a livello temporale qualora un deployment un release avesse un'anomalia bisogna aprire un incident e arriviamo all'8.6 risoluzione ed esecuzione esecuzione perché fulfillment si parla di service desk risoluzione invece riguarda l'incident management e il problem management ora chi ne sa di 27001 o di business continuity questa è sostanzialmente aria fritta vediamo di dire due cose essenziali la gestione incidenti va ovviamente proceduralizzati per fasi gli incidenti devono essere classificati per categoria e soprattutto prioritizzati chi usa dei software specifici per il management e la vita è molto più semplice ricordo che priorità vuol dire impatto urgenza spesso e volentieri non solo confusi ma presi per sinonimi l'urgenza è dimensione temporale impatto è dimensione di rilevanza un incident può essere molto urgente ma poco importante o viceversa quelli critici vada a sé sono quelli che sono ad alto impatto e urgenti quando sono molto molto urgenti diventano d'emergenza il workflow deve essere chiaramente registrato il secondo punto è un'ovvietà per chi conosce queste materie di incident management l'incidente risolto non è vuol dire incident chiuso la chiusura è un'attività chiamiamola manageriale che fa il service manager di verifica che la pratica chiamiamola così sia stata svolta correttamente e che tutte le fasi i documenti siano stati archivati per bene la 20.000 obbliga all'avere come succede nella 22.301 una procedura di escalation chiaramente per i major incident che vuol dire che in questi casi non c'è tempo di fare riunioni una persona dotata autorevole quindi enorme potere decisionale deve poter decidere immediatamente nell'arco di secondi minuti cosa fare service desk questo che cos'è è sostanzialmente tanto per essere pratici la produzione quindi è il reparto che ne so di app desk che tratta che risponde alle chiamate che fa l'assistenza di primo livello eccetera eccetera le service scusate le service request devono essere anche queste classificate su tutto ciò che è nuovo una modifica di un servizio esistente un enhancement cioè una evoluzione quindi un potenziamento miglioramento di un servizio un trasferimento oppure una terminazione tutto questo come dicevo sopra va a alimentare il piano di rilascio sul fatto che sia un processo articolato un progetto che non avrei più detto le wiki quindi le istruzioni operative che siano digitalizzate che siano solo informatizzate devono essere disponibili alle persone che fanno il service test problem management il processo rilevante ovviamente non può esserci gestione dei problemi se non si hanno le idee molto chiare delle root cause la root la causa la dice chi ha fatto in maniera intensa e dettagliata la gestione della conformità queste cose le sa benissimo usato i metodi i metodi formali per fare la gestione del root cause lo sa bene non è la causa di primo impatto ma bisogna scalare in alto o a sinistra secondo i casi per trovare quella radice per poter fare bene questo lavoro chiaramente bisogna avere una strutturazione dei dati strutturati i trend gli incidenti ben classificati in modo tale che sia più facile appunto trovare la root cause e quindi generare un piano di azione per eliminare la causa della dice quando e capita e capita perché un conto sono le teorie un conto la pratica che non si sia riusciti a eliminare la causa della dice o quindi si è riusciti solo a diminuire l'impatto bisogna comunque documentare attraverso un piano di contenimento le azioni appunto per ridurre l'impatto quando ci sono backfixing turnaround classica tecnologia del mondo software tutto questo materiale ricorda un po' l'FMA dell'automotive le wiki vanno vanno aggiornate e come sempre come accade per tutti gli altri processi il processo deve essere valutato periodicamente inutile dire che tutte queste valutazioni di efficacia di cui ho parlato che avete letto finiscono in maniera sintetica nel mondo del reggamento della direzione ecco incident management e problem management non sono la gestione di compromissità e la gestione di azioni correttive perché quelli incident e problem riguardano i servizi e la loro gestione non comunità e azioni correttive riguardano il sistema ovviamente un problema del servizio potrebbe mettere in luce una debolezza a livello di sistema ecco che qui i due mondi potrebbero connettersi arriviamo all'ultimo capitolo della norma e velabiti in gergo quando il servizio è su o il servizio è giù quindi l'indice per antonomasia di misurare la disponibilità è la percentuale di up time cioè 95% vuol dire che su 100 ore di calendario diciamo così il 95% il servizio è stato in funzione la norma richiede di valutare i rischi dei down time e risuminarli periodicamente tutto questo mondo ovviamente deve essere è ovviamente connesso alle SLA questo è talmente ovvio che molte SLA contengono come target contrattuale proprio l'up time ovviamente le prestazioni della velabiti devono essere continuamente monitorate quindi quelli fortunati che hanno i software i tool che fanno network o service monitoring è gratis hanno già tutte davanti le loro belle dashboard fatte molto bene quelli che non hanno questi strumenti ahimè l'ho detto all'inizio devono farlo in maniera manuale quando ci sono dei down time imprevisti bisogna ovviamente fare un'investigazione e aprire un piano d'azione continuity è il doveroso richiamo alla 22301 quindi la nella ISO 22301 abbiamo la business continuity plan qui abbiamo i service continuity plan sostanzialmente la stessa cosa solo che la abbiamo tutta l'organizzazione qua abbiamo tra virgolette solo il servizio però la struttura che richiede la 20.000 vedete questa procedura di ripresa recupero di pristino del servizio stile MCP è analoga pur non richiamati i tre indicatori famosi del mondo continuity pur non richiamati molto spesso sono misurati dalle quindi l'MTBD l'RTO l'MBCO il tempo medio di ripristino il tempo massimo in cui un servizio può essere in down time e le prestazioni minime che erogate durante una disruption anche se non citate molti service provider le monitorano non c'è business continuity scusate non c'è service continuity se i contatti di emergenza non sono sotto mano non c'è tempo per guardare le pagine gialle tanto per dire ovviamente se c'è continuity vanno fatti delle pianificate ed eseguite e documentate delle prove e delle simulazioni quando ci sono dei change dei major change vanno fatte delle prove specifiche sui servizi nell'ambiente di produzione per vedere che non abbiano ci sono stati impatti negativi e quando il service continuity plan è stato invocato bisogna fare bisogna realizzare una relazione security information security praticamente questa è la 27001 sintetizzata in una slide perché più o meno è la stessa cosa chiaramente qui è la sicurezza delle informazioni del servizio mentre la la 27001 sono tutte le informazioni comunque sempre di riservatezza di utilità e integrità parliamo ci deve essere la policy documentata approvata che deve essere messa a disposizione delle parti interessate ecco perché ho richiamato il paragrafo della comunicazione non c'è risk assessment se non c'è una valutazione periodica dei rischi a fronte degli avvenimenti ho sotto ho inserito anche sms quindi non solamente sui servizi cioè il prodotto ma anche sul sistema di gestione chi sa di 27001 sa di cosa sto parlando quindi tutto il mondo annex ha i cento e passa controlli ovvero queste contomisure che l'organizzazione deve mettere in piedi per governare i rischi quando appunto le azioni vengono attuate bisogna documentarle queste azioni l'assessment il risk management va esteso anche ai fornitori e comunque alle organizzazioni esterne anche qui il solito è la votazione periodica dell'efficacia dei controlli e quando c'è una questo è oserei dire ovvio quando c'è un incidente di sicurezza bisogna aprire il processo di incident management diciamo che con questa slide abbiamo terminato e scusate se non sono stato molto veloce e purtroppo anche superficiale ma è una chiacchierata iniziale giusto per dare qualche qualche idea e abbiamo terminato la disamina dello standard adesso terminiamo con concludiamo con qualche cenno ai processi che cos'è questa immagine questa è una delle tantissime immagini che voi potete trovare sul web dei produttori di questi IT service management queste applicazioni meglio di questi sistemi gestionali integrati e ovviamente che possono interagire col mondo IRP col mondo CRM eccetera eccetera col mondo documentale che sostanzialmente supportano tutti i processi di cui abbiamo parlato in maniera digitalizzata vi assicuro che quando voi li vedete io durante l'anno ne devo vedere un po' voi riconoscete immediatamente i titoli dei processi IT barra ISO 20000 perché ovviamente usano la stessa tecnologia quindi lì proprio vedete la la availability lì vedete l'incident lì vedete le change request lì vedete il mondo del release lì vedete il catalogo di servizi questo chiaramente è le SLA naturalmente le wiki eccetera 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 quindi questo questi tipologie di sistemi se ci fossero sarebbero aggiorerebbero grandemente non solo l'implementazione del sistema di gestione questo è ovvio ma la gestione stessa del service provider ma non sono obbligatori non sono obbligatori vi assicuro che ci sono aziende che hanno si sono certificate anche senza questi affari all'inizio poi dopo li hanno introdotti finiamo terminiamo con i consigli qualche consiglio che mi sono sentito di suggerire allora prima di tutto non inventiamoci cose strane nella documentazione di alto livello ma anche di basso livello del sistema usiamo le denominazioni dei processi del service management perché guarda caso sono quelli che usa tutto il mondo sono quelli che usano dei sistemi software abbiamo già visto quindi anche se non obbligatorio è una furbata soprattutto chiaramente per il capitolo per il processo del capitolo 8 del vero operation i processi del sistema di gestione devono essere descritti bene ma non solo bene in maniera anche qua un po' furba ad alto livello facciamo le solite mappe con le overview anche schematica anche a livello di immagine ma poi scendiamo granularmente in modo tale che non so con le tabelle RACI con gli input output eccetera eccetera granularmente a livello di sottoprocesso fase attività operazione ci sia una descrizione ben fatta non tanto non tanti discorsi non tanto non tanto procedure di vent'anni fa ma molte tabelle molti schemi molti schemi flussi schemi quando voi vedete l'utilizzo dei software di service management questo tipo di logica la potete proprio fotografare cerchiamo di strutturare in termini ripetitivi le issue come si dice in gergo in modo tale che i workflow siano il più possibile non identici ma simili questo cosa ci fa raggiungere ci fa raggiungere la efficienza ci fa raggiungere che abbiamo processi robusti snelli ripetitivi ripetitivi magari è un po' banale c'è poca creatività lo riconosco ma i processi in questa maniera diventano estremamente efficaci ed efficienti chi fa l'auditor chi fa il responsabile dei sistemi questo lo vede lo vede spesso anche chi è bravo in tutti i sensi anche a livello di sistemi di gestione nel mondo nella delivery zoppica un po' soprattutto all'inizio nella parte progettazione e sviluppo perché la si considera non dico tempo perso ma come dire la parte documentata di sistema la si ritiene un po' diciamo accessoria quindi meglio dedicare il tempo giusto alla parte design perché solitamente questo è una delle aree più deboli all'inizio l'ho detto quando ho fatto l'esempio della capogruppo perché questo è l'esempio classico che accade a livello di audit se siccome la norma dice e permette che il service provider possa non eseguire pianificare eseguire tutti i processi tutti i servizi e le parti servizio se è un processo una parte di servizio un servizio eseguita dalla capogruppo o da un fornitore facciamolo partecipare all'audite o comunque facciamo in modo che il sistema questo processo sia tangibilmente descritto e facile da valutarsi l'ho detto quando abbiamo una proposta in termini di business estremamente articolata facciamo un cheat for anche a livello di service management plan e di catalogo e di portfoglio accorpiamo i servizi i macro servizi in modo tale che la vita sia proprio più agevolata e poi a livello poi di delivery codifichiamo le varie varianti dei servizi penso che questo sia l'ultimo non pensiamo che la formazione sul linguaggio sulla terminologia sulle prassi non parliamo dell'addestramento operativo per le persone che eseguono le attività operative sia tempo perso è tempo invece utile perché non solo fa cultura ma fa in modo che tutte le persone si siano si sentano coinvolte e quindi si aumenti la consapevolezza e molto probabilmente io ho finito quindi vi ringrazio intanto per l'attenzione e per la partecipazione come vi dicevo all'inizio se quelli che di voi hanno fatto domande avranno la risposta se volete le slide le potete chiedere io vi ringrazio per la partecipazione e vi do magari un appuntamento per un prossimo webinar grazie e buona serata grazie